Oh salve salve a tutti bentornati nel canale. Allora sarà detto di parlare di questo fumetto sempre degli anni sessanta che ha avuto un grandissimo successo come diabolico, Criminale. Criminale è questo personaggio creato negli anni sessanta da Max Bunch e dal grande disegnatore Magnus. Queste storie sono state pubblicate dal 64 al 74, una decina d'anni, per un totale di 419 numeri. La serie ha avuto una periodicità molto variabile. Da settimanale a quindicinale, mensile, ha fatto tanti cambiamenti. Edita dall'editoriale Corma. Appartiene questo fumetto al filone dei neri, tipo personaggi come Satanic, Diabolic, Killing, Sadik, tutti con la capa. In quel periodo lì andava molto di moda. Poi a fine anni sessanta il successo della serie porta a realizzare anche due film al cinema. Criminal Monimo del 66 e Il Marchio di Criminal del 68. Il numero uno della serie, diciamo, che rappresenta l'esordio di Magnus, del grande Magnus, che poi disegnerà Satanic, Alan Ford, Dennis Cobb, un sacco di personaggi. Sempre a fianco Max Bunch che scriveva tutte le storie. Questo fumetto, come Diabolic, ha raggiunto una bella popolarità, sia di lettori che collezionisti. Infatti, il numero uno ha un valore di un migliaio d'euro. Venendo al personaggio, Criminal conosce il suo passato, si sa tutto. Si chiama Anthony Logan, è un americano, poi naturalizzato inglese. Logan ha passato un'infanzia tormentata perché il padre fu spinto al suicidio dopo essere stato ridotto sul lastrico dai soci, dai suoi amici, soci imprenditori. La madre e la sorella furono anch'esse vittime di questo mondo corrotto. Quindi, Logan trascorre l'adolescenza un po' come un ragazzo dal riformatorio, infatti poi fu rinchiuso e poi evade. Le storie sono ambientate in questo mondo popolato da persone corrotte, perverse, insomma, prive di scrupoli. Il nostro eroe, chiamiamolo così, anti-eroe, proprio in fondo. Cresce molto amareggiato dalla vita e decide di vendicarsi dei soci del padre. Diventa uno spietato criminale, un assassino, un ladro. Compie furti, fa di tutto. Nasconde la propria identità dietro questa tuta, questa calzamaglia gialla, con questo impresso, questo scheletro nero. E come maschera usia proprio un teschio, un teschio bianco per incutere ancora più terrore verso le proprie vittime. Utilizza il pugnale come diaboliche, però anche lui fa uso di... No, il pugnale come diaboliche e, a differenza di diaboliche, usa anche armi da fuoco, il mitra in particolar modo e pistole varie. Mentre diaboliche usa sempre il coltello, sempre l'arma bianca. Le storie di crimina sono autoconclusive, però hanno questo filone conduttore, hanno questa sottotrama, che praticamente è la vita di lui, che si amplia dopo ogni... Albo dopo albo viene fuori sempre una storia privata. Infatti anche lui poi avrà una compagna, questa Lola, e anche un figlio. Poi non mi voglio dilungare tanto sulla trama, perché è interessante seguire questo fumetto, cercare i numeri e scoprirli leggendoli, tutta questa trama, perché ci saranno un sacco di colpi di scena. Anche lui c'è il rivale, che è questo commissario Milton. Ci saranno delle storie fra le varie compagne, e un po' di casini. Comunque il fumetto merita essere seguito, letto e collezionato. Peccato che le sue storie sono concluse in solo i dieci anni, non si trovano più, non c'è più niente. Sono uscite un sacco di ristampe, l'ultima è la più recente, quella a colori, molto bella, con le figurine, con l'album. si è conclusa recentemente. E niente. Cercate Criminal, perché merita, un personaggio un po' antico, perché degli anni Sessanta, i numeri sono abbastanza costosi, gli originali, però merita, se trovate delle ristampe, merita di essere letto. Quindi viva Criminal, viva Max Bunker, Magnus, che non c'è più. E niente. Io vi saluto, e vi aspetto in un altro video. Ciao a tutti.